Ehi, il cielo si sta rischiarendo dopo una giornata intera di pioggia. Tutto bagnato per terra, come potete vedere, e io sono appena tornato da una sessione di pesca. E adesso vi racconto un po' com'è andata e insieme andremo a parlare delle tecniche migliori per pescare sotto la pioggia. Let's go, guys! Let's go, guys! Le giornate come queste, dove c'è molta pioggia, cielo nuvoloso e vento. Questi sono i tridenti in assoluto. Bello, sicuramente in questo periodo dell'anno, magari un po' meno in altri periodi dell'anno, tipo l'inverno dove piove acqua più fredda magari, quindi non è molto entusiasmante. Alcuni periodi dell'anno in primavera, in cui la temperatura si sta riscaldando, piove, quindi arriva acqua fredda che scende giù in profondità e tende a raffreddare un po' troppo uno specchio d'acqua che si stava riscaldando. Però adesso parliamo di come affrontare le giornate piovose in questo periodo dell'anno, quindi nel periodo autunnale, che è uno dei migliori in assoluto. Capiamo il perché il bus è molto attivo in questo periodo dell'anno. È attivo per un motivo in particolare. Sicuramente quando c'è questa giornata è molto nuvolosa, c'è poca luminosità. Meno luminosità, pesce più carico. Questo lo sappiamo da tanto tempo. Lui vuole poca luminosità, ha un vantaggio nei confronti delle prede, quindi diventa un predatore molto più efficace, molto più efficiente. Numero due, perché piove. La pioggia tende a cambiare la temperatura superficiale dell'acqua. A volte la migliora, a volte la peggiora, in questo caso la migliora perché tende a rinfrescarci abbastanza rapidamente. E quindi il pesce comincia a capire che è ora di andare ad alimentarsi perché arriva l'inverno. La pioggia inoltre ha anche un effetto estremamente benefico su tutta la natura. Quindi, sottosera magari si schiudono un po' di insetti, si schiudono. Quindi quando poi vengono colpiti dall'acqua tendono a entrare nell'acqua. Quindi i microrganismi, i piccoli pesci vanno a mangiarli e così la catena alimentare parte e anche il bus. E questa è una cosa veramente interessante, soprattutto nelle giornate come quella di oggi, dove durante il giorno piove e poi la sera esce il sole. Quindi ci sono le schiuse e che sono molto importanti per l'ecosistema acquatico a 360 gradi. La pioggia. La pioggia è veramente molto importante. Intanto fa questo piccolo rumorino a galla che aiuta veramente il pesce a salire in superficie. Perché sappiamo tutti che il bus è estremamente curioso, molto curioso, quindi sali in superficie per venire a vedere tutto quello che succede. E quando piove qualcosa succede. Quando cade al di sopra degli alberi tutto quello che c'è sugli alberi, i vari insetti cadono tutti in acqua. E quindi il bus è lì pronto. Lo sa benissimo cosa succede in questi momenti. E quindi lui è lì pronto ad attaccare le nostre esche, in particolare al di sotto delle cover e in poca profondità. Oltre alla nuvolosità e oltre alla pioggia che ha un effetto benefico c'è anche il vento. Spesso qua il vento sposta completamente il foraggio in alcune zone, in alcune sponde. Quindi il pesce si attiva, sale in superficie e parte la catena alimentare. Quindi i tre fattori che ci dicono che in questo momento dell'anno in particolare la bassa pressione e le giornate di pioggia costante sono positive. La poca luminosità sono la pioggia che fa rumori in acqua e cambia anche la temperatura superficiale dell'acqua. Quindi questo può aiutare veramente tanto e i vari insetti che entrano in acqua. Inoltre quando piove quasi sempre salgono i livelli, crescono i livelli dei laghi e i livelli dei fiumi. Quindi cosa succede? Questa crescita dell'acqua tende ad allagare delle zone che prima erano in secca e anche qua portano giù insetti, vermi, cibo per il foraggio del basso. Che poi ovviamente con la catena alimentare lo va a seguire e lo va a immagazzinare. Quindi vedete che bassa pressione e tutto quello che gira intorno alla pioggia e alle giornate nuvolose sono quasi tutte benefiche. Dico quasi tutte perché in alcuni momenti magari la pioggia che scende è più fredda della temperatura dell'acqua. Quindi a volte il pesce arriva con una specie di shock termico e tende ad alimentarsi per un certo periodo per poi invece alimentarsi meno dopo. Oppure viceversa, sono dei momenti in cui invece il pesce tende ad andare a cercare l'acqua un pochino più fresca, cade l'acqua calda dal cielo e quindi diciamo che quasi sempre funziona. Però attenzione agli sbalzi superficiali, la pioggia cambia la temperatura superficiale dell'acqua. Quindi dobbiamo stare molto attenti e capire esattamente se quel giorno lì sarà meglio o sarà peggio. E dopo questo pippone clamoroso che vi ho raccontato sulla mia esperienza della pesca con la pioggia parliamo di quello che vi interessa un pochino più a voi e comunque a noi in generale pescatori che è quello di come pescare in questi momenti. Allora abbiamo già capito che in questo momento dove c'è molta pioggia, dove c'è movimento d'acqua, dove si sposta, branchi di foraggio si spostano, dove il pesce si mette in attività, le esche di reazione, le esche di movimento più che di reazione tendono ad essere molto utili. Quindi tutte le tecniche con la pesca veloce sono quelle che rendono di più. Nelle giornate di pioggia dove però non c'è molto vento e può capitare comunque le perturbazioni non sempre portano vento molto forte, anzi a volte il vento è molto più forte alla fine della perturbazione quando c'è il cambio di pressione atmosferica. Ma invece quando ci sono giornate che piovose e piove anche tanto con perturbazioni che portano poco vento ecco qua io vado anche ad affrontare la pesca magari con esche tra virgolette un pochino più lente come il gig in particolare. E qua lo uso di dimensioni veramente importanti, uso un gig con un bel trailer dietro da pescare magari sui Minjig dove magari quest'anno faremo un video un pochino più dedicato e un pochino più fissato visto che abbiamo fatto una cosa un pochino frettolosa qua sul canale dell'ultima volta e andremo a cercare comunque pesce all'interno delle cover perché comunque qua i gamberi sono in attività, c'è movimento, l'acqua si alza, entrano cose nuove in acqua quindi il gambero è molto attivo e il bass anche lui si spinge contro la sponda per mangiare i gamberi in particolare contro i canneti poi i livelli cominciano ad alzarsi quindi il pesce inizia a spingersi contro e qua secondo me tecniche in particolare come il jig vanno molto bene. Ok amici belli volete veramente vedere tutte le canne che ho preparato per domani per questa giornata di pioggia? Se non le spacco tutte eccole qua! Sì ho preparato un sacco di canne e non è che le ho preparate perché effettivamente poi mi serviranno tutte le ho preparate per essere pronto a qualsiasi eminenza anche perché avendo tante canne pronte all'uso se vedo che l'attività del pesce non risponde come penso io sono pronto avere una canna tra virgolette di riserva oltre al mio piano di battaglia questo mi dà una solidità mentale che a me personalmente aiuta molto quindi qual è il mio ragionamento io domani ho il mio piano di battaglia il pesce mangerà così 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 e sono sicuro di questo però devo essere pronto a cambiare questa cosa non posso semplicemente dire sarà così domani va come va sì ho fiducia sono pronto a fare quello che voglio fare però poi se capita qualcosa devo essere pronto a sedermi tirare fuori le altre canne fare degli inneschi e sistemarmi perché non sempre ovviamente ho ragione tante volte il pesce mi fa delle degli approcci differenti e si comporta in un modo differente da posto a posto in particolare dove vado nei prossimi giorni dove vado domani che è un posto dove ci sono molti predatori concorrenti dove il bus non è l'unico predatore ma ci sono anche siluri lucci perca aspi eccetera quindi in questi casi in cui ci sono molti predatori concorrenti che lottano insieme per il cibo il bus può anche cambiare l'atteggiamento dai classici canonici regolamenti tra gli argolette e la bibbia del bus fishing che noi conosciamo per tanto tempo e che i nostri pad diciamo trasmesso allora vai cominciamo con le canne base queste sono le canne che ho preparato che si allineano alla mia al mio modo di pensare in una giornata in cui c'è cielo nuvoloso e pioggia la prima cosa per me in questo periodo con la temperatura dell'acqua ancora tra i 15 e i 20 gradi è la pesca a top water in particolare con un bus bait il bus bait mi piace moltissimo a cui domani però andrò a alternare anche un popper e anche diciamo qualche scappa particolare magari qualche crawler di cui parliamo poco su questo canale oppure qualche vtd ma credo che domani con bus bait e popper siamo a posto bus bait nelle prime ore della mattina quindi appena arrivo che c'è ancora poca luminosità già che ce n'è poca perché c'è nuvoloso qui c'è ancora più poca luminosità e allora lì vado col bus bait mano a mano che andrà avanti la giornata e si alzerà un pochino la luce allora forse lì il popper potrà darmi una mano popperini non troppo grandi e robetta da 6-8 centimetri massimo 9 non di più perché appunto voglio imitare tutte le piccole cosettine che cadono quando piove sopra alla superficie dell'acqua la seconda arma per domani è il crankbait in questo caso come vedete io ho montato un crank shallow cioè un crank che scende un pochino meno non un crank deep non un crank che scende in profondità 2-3 metri ma un crank con una paletta molto molto corta che mi permette di sondare i primi 30-40 centimetri massimo massimo 50 centimetri di colonna d'acqua stare molto vicino alle cover molto vicino all'herbe che sta morendo anche se l'herbe che sta morendo non è fantastica ma comunque è sempre una cover quindi magari andare a cercare quella quella erbetta un pochino più verdina in questo periodo che può aiutare molto importante stare intorno ai sassi e intorno agli alberi sono le due zone chiave dove alzandosi un po' il livello e bagnandosi tutto scende in acqua cibo quindi più facile che il bus sia lì quindi vado con lo shallow crank ovviamente in questo periodo non posso dimenticare lo spinnerbait quindi una giornata piovosa molto bene lo spinnerbait il foraggio è molto attivo sia in superficie sia viene spostato anche dal vento quindi lo spinnerbait aiuta moltissimo in questo in questo periodo è una tecnica veloce una pesca veloce fatta apposta per spostare molta acqua quindi ok le mie tre esche le mie tre tecniche gol per domattina sono queste cielo nuvoloso pioggia io vado spinner shallow crank e top water stop bene sarebbe bellissimo che fosse tutto così e io domattina lo spero che con queste mie tre tecniche io pesco tutto il giorno e di problemi non ce ne sono però devo essere pronto a trovare anche i momenti in cui il pesce è un pochino meno carico e questo può capitare durante la giornata non sempre quando c'è molto cielo nuvoloso o magari vento oppure quelle condizioni un pochino particolari ecco che lì a volte bisogna rallentare e come vado a rallentare io in questo in questo momento un bel gigone un bel gig da mezz'oncia non sicuramente un gig piccolo qualcosa di più importante di più imponente che mi piace molto da mezz'oncia grande con un anno molto grande con un gambero di dimensioni importante con una colorazione più tinta unita possibile questo mi permette di affrontare anche dei pesci di dimensioni molto importanti di lanciare la mia esca all'interno delle cover sia alberi che c'è spugli e soprattutto anche in mezzo al canneto in questo periodo il canneto è ottimo perché ci sono molti gamberi che ci girano intorno quindi sicuramente non vado a utilizzare delle schette un pochino piccole perché il bus non è molto attratto da cose piccole in questo periodo dell'anno e anche perché iniziano a uscire i pesci di dimensioni importanti quindi qua il gig fa veramente la differenza filo grande minimo 16 libri per arrivare fino a 20 libri è una canna tosta devo andare all'interno delle cover e mi aspetto anche dei livelli che molto probabilmente saliranno in maniera anche importante quindi tante cover saranno più allagate ed ecco che qua il gig verrà in mio aiuto se piove tantissimo piove tantissimo e vedo il pesce molto ma molto concentrato e vedo magari degli attacchi di pesci di dimensioni un pochino più importanti con il chatter è un'esca molto molto interessante in questo periodo dell'anno che è un'esca che fa delle vibrazioni diverse dallo spinnerbait e a volte attacca dei pesci un pochino più importanti e nelle giornate di pioggia è veramente super perché è quell'esca stealth tra virgolette che passa in mezzo alle cover che non fa tutti questi flash importanti che fa lo spinnerbait che sono ottimi nelle giornate molto nuvolose e piovose però il chatterbait tende ad imitare magari un pochino più un gambero lo spinnerbait è molto più shed ok però se domani sono più attivi sui gamberi ecco che io vado a utilizzare il mio chatterbait un'esca veramente super in questo periodo dell'anno e in particolare nelle giornate piovose e con una colorazione differente come vedete più scura più tinta unita più tendente al nero al marrone al blu questi colori un pochino più gambero piuttosto che lo spinner che è un esca un pochino più chiaro quindi se vedo che il pesce è più attivo sul gambero oppure vedo che è una condizione ottima e nei primi momenti della mattina vedo che prendo dei pesci di una taglia superiore ecco che vado con il chatterbait ok mettiamo che tutto questo non ha ancora funzionato quest'anno sto provando una tecnica che mi piace molto forse non ha un nome comunque ve la faccio vedere ed è utilizzare una soft swing bait con un amo con una piccola paletta dello spinner sotto mi ha regalato veramente delle ottime soddisfazioni in giornate con zero vento ma con cielo nuvoloso recuperato intorno agli ostacoli questa tipologia di esca è appunto uno sciaddone di gomma con un amo dietro questo sciaddone di gomma con questo amo dietro la palettina dello spinner dietro questa cosa qua è veramente molto molto interessante è una tipologia di di esca un pochino più stealth però di dimensione più importante perché comunque è 4.8 quasi 5 pollici questo questo sciaddone qua è molto interessante non è scato su un amo con una molla con un piombo sotto come vedete è una palettina dello spinner che si muove quindi è una specie di swing bait però che dà qualche vibrazione sotto lo spinner bait e con la coda che si muove in questo modo veramente molto bello questo movimento della coda dietro molto lento che può far attaccare un pesce anche che ha preso questo cambio del tempo questa giornata piovosa non bene come gli altri ecco questa è un'ottima alternativa inoltre posso skiparlo quindi se io trovo una condizione come quella di domani magari dove c'è ancora livello non troppo alto ma c'è spazio per skippare al di sotto delle cover questa è una grandissima esca skipo al di sotto delle cover con un'esca che assomiglia a uno spinner bait a uno shad assomiglia veramente a tante cose che il bus può mangiare quindi provate che è una tecnica che quest'anno mi sta regalando veramente bene ecco domani mattina c'è il caso che io arrivo sullo spot e guardando le condizioni magari con le giornate super tenebrose con la nebbia con un po' di pioggia con il cielo super nuvoloso e un po' di nebbia io mi vado a utilizzare una swim la swim in questo periodo dell'anno è super il pesce è molto concertato su esche grandi su pesci grandi e quindi la swim è veramente top sia come questa che è una glide oppure altre tipologie di swim però galleggianti io preferisco in questo momento delle swim galleggianti perché appunto il pesce è molto in alto molto nella corona superficiale quindi è pronto ad attaccare la mia esca quindi preferisco utilizzare una swim floating che sta a galla poi cercata anche abbastanza rapidamente con qualche pausa secondo me è super top e c'è il caso che domani quando poi arrivo sullo spot e dico ok oggi è una giornata da pescare tutto il giorno a swim bait infine vi lascio con due esche una un po' fantasiosa in questo periodo perché la temperatura è fredda che è la rana ok la frog secondo me può essere un'ottima tecnica domani per prendere una mangiata bella di un pesce bello quindi occasionalmente se vedo quelle condizioni ancora di ninfee che non sono ancora completamente morte la rana può andare molto bene quindi in condizione ancora di vegetazione in superficie in questo periodo può anche darsi che ci sia ancora vado con la ranocchia non ci farò molti lanci domani però sicuramente qualcuno ce la farò e potrebbe uscire anche un super pescione e l'altra è l'immancabile canna da spinning mi tengo comunque sempre una canna da spinning montata con un verme dritto o uno shed comunque bianco perché se vedo che non c'è nessun tipo di attività con tutta la tipologia di dieci che ho montato anche in giornate piovose una canetta da spinning da lanciare in testa a un pesce magari che vediamo sotto riva che in attesa che cade qualcosa sopra la sua testa ecco che questo verme qua può darci veramente una mano bene amici io sono pronto per questa giornata sotto la pioggia spero di avergli dato una mano attenzione che nelle prossime settimane arriveranno diverse giornate sotto la pioggia quindi dobbiamo essere pronti spero che i miei consigli vi siano stati utili come sempre se vi è piaciuto il video mettete like condividete il video in giro iscrivetevi al canale e come sempre in bocca al basso ci vediamo sui social ciao